Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi il nuovo video a tema Harry Potter, ma un video diverso dal solito, un video chiacchiericcio, niente unboxing per oggi, ma sono davvero molto molto contento di farlo perché è una collaborazione con uno di voi, precisamente con Matteo. Matteo mi segue da diversi anni, mi ha sempre dimostrato molta stima, mi ha sempre seguito con interesse e gliene sono eternamente grato e grazie anche un po' a me nel mio piccolo e al fatto che io mi sono messo qui su YouTube a fare dei video, anche lui si è preso di coraggio e ha deciso di aprire un canale YouTube a tema Harry Potter, a tema fantasy. E ne sono davvero molto molto felice e naturalmente vi ho promesso che quando il suo canale avrebbe superato i 1000 iscritti, io sarei stato disponibile a fare una collaborazione. So benissimo ragazzi che può sembrare una cosa di poco conto, ma per me è davvero una cosa che richiede molto impegno perché lavoro tantissimo, infatti tendo a non fare mai collaborazioni, ne faccio davvero pochissime durante l'anno, ma io sono davvero contento di essermi sforzato per riuscire ad incastrarmi con gli orari di Matteo perché secondo me merita tantissimo, è molto molto bravo, fa dei contenuti molto interessanti e anche diversi dei miei, quindi sono sicuro che vi piacerà molto il suo canale, infatti troverete il link sotto in info box. Ma detto questo ragazzi io adesso passo la parola a Matteo così può presentarsi e spiegarvi cosa andremo a fare oggi. Ciao Antonio, per me è un piacere essere qui sul tuo canale a fare questa collaborazione e per chi non mi conoscesse mi presento subito. Sono Matteo e ho aperto da poco un canale YouTube di nome Wizard Always a tema fantasy con un principale occhio di riguardo per Harry Potter. Oggi andrò a fare 7 domande a tematiche potteriane ad Antonio e lui ne farà 7 a me, quindi se siete curiosi di vedere le mie risposte vi invito a seguirmi e a controllare il mio canale, lo trovate in info box, in modo da vedere appunto le risposte e le domande che Antonio mi farà. Ma a questo punto direi subito di non perdere tempo e giro la parola al nostro Antonio. Bene, rieccoci di nuovo qui e grazie mille a Matteo per questa bella presentazione e a questo punto non ci resta che passare all'azione e cominciare con la prima domanda. Come prima domanda Antonio voglio chiederti se tu potessi trascorrere una giornata con un personaggio della saga di Harry Potter. Chi sceglieresti? Ma soprattutto perché? Gran bella domanda e potrei rispondere in modo molto banale dicendo il nome di un professore, quindi la Megranit, Silente, Piton, sarebbe molto facile. Ma riflettendo bene invece mi piacerebbe passare una bella giornata all'aria aperta con Hagrid. Hagrid secondo me è un personaggio che nei libri è stato approfondito abbastanza ma nei film per niente. Poteva avere più spazio sia da una parte che dall'altra perché lo trovo davvero molto molto interessante e secondo me ha tante cose da dire e raccontare. Ma principalmente mi piacerebbe passare con lui una giornata perché potrebbe mostrarmi tutti gli animali, potrebbe parlarmi dei draidi, potrebbe farmi cavalcare un ippogrifo, farmi accarezzare un testral. Sarebbe davvero tutto tutto molto interessante e credo che lo adorerei da impazzire. Come seconda domanda invece voglio chiederti se sei soddisfatto del finale oppure lo avresti visto in un'altra maniera. In questo caso ti chiedo come mai. Un finale diverso della saga. In linea di massima il finale della saga mi ha lasciato abbastanza soddisfatto. L'unica cosa che cambierei perché proprio non la posso sopportare è Ginny. Io avrei preferito di gran lunga che Harry alla fine sposasse Luna. Secondo me sarebbero stati una gran bella coppia. Harry con i suoi modi un po' seri, un po' anche burberi a volte secondo me. Sarebbe stato compensato benissimo da Luna col suo carattere super estroverso, con la testa fra le nuvole ma molto molto intelligente anche lei. Secondo me sarebbe stato molto interessante vederli assieme. Invece il fatto che Harry abbia sposato Ginny che alla fine è la sorella del suo migliore amico quindi si sapeva che sarebbe andata a finire così. Però a me il personaggio di Ginny non mi ha mai fatto impazzire più di tanto. Forse anche complice l'attrice che l'ha interpretata che non è che mi facesse proprio impazzire. Addirittura avrei preferito Cho Chang quindi pensate un po' voi. Ma direi che l'unica cosa che cambierei del finale della saga è questo. Poi per il resto devo dire che Zia Jo è stata brava. Come terza domanda invece voglio chiederti Antonio se sei soddisfatto del risultato cinematografico. Ovvero credi che i film siano alla pari dei libri oppure l'opera letteraria resti sopra? E perché secondo te è questo? Ti dirò io quando andavo a vedere il film il primo giorno d'uscita ho visto praticamente tutti i film al day one tranne il primo perché ho preferito prima leggere il libro e poi guardare il film a casa in videocassetta. Tutti gli altri li ho sempre visti il primo giorno d'uscita e mi lamentavo sempre. Chi veniva al cinema con me ormai lo sapeva che io all'uscita mi sarei lamentato per tutte le differenze tra pellicola e libro. Ma col senno di poi a distanza di tanti anni direi che possiamo davvero lamentarci pochissimo dei film di Harry Potter. Perché nonostante si siano presi delle licenze ci siano delle lacune qua e là qualche buco di trama ma ragazzi è stato fatto davvero un lavoro pazzesco. Si vede che dietro c'è anche J.K. Rowling che ha monitorato tutta la situazione perché c'è davvero poco di cui lamentarsi. Ho visto saghe che sono state totalmente mutilate, vedi Percy Jackson, vedi anche gli stessi film di Twilight o tantissimi altri. I film di Miss Peregrine ne hanno fatto uno e per fortuna si sono fermati perché hanno combinato un disastro. Quindi reggere il ritmo per otto film, tenere comunque a bada tutti i particolari, tutti gli intrecci. Devo dire che sono stati molto molto bravi nonostante i vari cambi di regista. Sono davvero molto soddisfatto col senno di poi della resa della saga cinematografica. Se invece dobbiamo parlare della trasposizione nuda e cruda dal libro al film ovviamente si sarebbe potuto fare di meglio ma come dicevo prima nonostante ci siano state delle lacune, dei buchi, delle licenze poetiche devo dire che hanno fatto quello che potevano perché concentrare libri anche abbastanza grossi, vedi il quarto libro e il quinto libro in un solo film di due ore non deve essere per niente facile. Io impiego due ore per realizzare un video di dieci minuti quindi figuriamoci trasporre un libro di Harry Potter in due ore. Quindi davvero secondo me sono stati molto molto bravi e abbiamo davvero poco di cui lamentarci. Come quarta domanda invece voglio chiederti se c'è un particolare della saga che cambieresti e soprattutto vorrei saperne la motivazione. Come dicevo prima cambierei poco della saga se non il finale dove magari Harry sarebbe finito con Luna e non con Ginny ma un'altra cosa che magari si sarebbe potuta cambiare che mi sarebbe piaciuto fosse diversa magari io avrei evitato la morte di Sirius Black perché Harry è praticamente solo al mondo finalmente riesce a trovare una persona che può considerare la sua famiglia e nel giro di mezzo film o di mezzo libro questa persona comunque va quasi già a morire perché poi nel quarto libro praticamente lo vediamo poco in niente e nel quinto già ecco che muore. Mi sarebbe piaciuto vedere alla fine Harry abbracciarsi con Sirius Black e fargli conoscere i propri figli e tutto quello che ne sarebbe conseguito quindi magari quello sì mi sarebbe piaciuto che perlomeno Jake Rowling ci avesse risparmiato la morte di Sirius Black sono sicuro che anche a molti altri di voi avrebbe fatto piacere. Come quinta domanda Antonio ti voglio chiedere saresti a favore di un Harry Potter 8 e quindi un continuo della nostra saga preferita oppure preferiresti uno spin-off o una serie tv? Eventualmente puoi anche dirmi che non preferiresti nulla di questo. Un eventuale Harry Potter 8 se con Harry Potter 8 intendiamo la maledizione delle rede io direi di no, direi di lasciarlo morire lì a teatro visto che anche è stato decanonizzato direi di lasciarlo lì come opera teatrale, come prodotto extra ma non canonico quindi no, assolutamente no. Io secondo me invece più avanti vedremo un reboot della saga cinematografica secondo me prima o poi arriverà ma questa secondo me è una cosa che non è prettamente necessaria si potrebbero esplorare nuovi aspetti della saga di Harry Potter quindi sarei più propenso a uno spin-off magari sui malandrini che tanto viene richiesto dalle persone o altrimenti una serie tv quella secondo me sarebbe la cosa migliore pensate se Amazon Prime o Netflix decidesse di realizzare una serie tv quindi una stagione magari da 10 episodi da un'ora all'uno, quindi abbiamo 10 ore da dedicare ad un solo libro della saga capirete che potrebbe essere molto molto più fedele ai libri ma tantissimo quindi sarebbe davvero molto molto bello sarebbe molto interessante vedere tutto il recast dei personaggi quindi nuovi attori e poter commentare tutte le nuove scelte le interpretazioni, fare dei paragoni sarebbe davvero molto molto interessante e spero che prima o poi qualcuno decisamente lo faccia come sesta domanda invece Antonio ti chiedo qualcosa riguardo Animali Fantastici sei soddisfatto di questa saga oppure la ritieni una forzatura a livello di trama? soprattutto poi ti volevo chiedere anche quali sono per te i punti di forza di questa nuova storia Animali Fantastici secondo me poteva essere una gran bella idea poteva essere sfruttata molto molto bene il primo film devo dire che mi è piaciuto non l'ho trovato per niente forzato anche perché sono convinto che J.K. Rowling abbia moltissimo materiale non utilizzato per la saga di Harry Potter come ad esempio Nagini e quindi secondo me poteva benissimo venirne fuori una saga molto interessante il secondo film non mi è piaciuto per niente perché secondo me è stato scritto male è stato montato e tagliato davvero malissimo quindi si poteva fare di meglio sono contento che per il terzo film si stiano prendendo molto più tempo stiano riscrivendo la sceneggiatura che J.K. Rowling finalmente sia affiancata dallo sceneggiatore dei film di Harry Potter perché del terzo film sappiamo solamente che J.K. Rowling non lo scriverà più da sola ma avrà qualcuno di competente vicino quindi potrebbe essere molto molto importante e io do quest'altra possibilità alla saga che se sviluppata bene senza incongruenze con la saga di Harry Potter senza andare a distruggere quello che è stato fatto all'interno della saga di Harry Potter spero vivamente di poter vedere un prodotto valido l'anno prossimo e che si riesca a portare a fine tutti e cinque i film sì secondo me nella fine potrebbe venirne fuori una cosa molto interessante anche se è stata gestita un po' male i tre punti di forza invece secondo me sono primo posto metterei le creature che sono molto molto interessanti io sono assolutamente affascinato da tutte le creature create da J.K. Rowling e hanno un potenziale pressoché infinito possono essere sfruttate all'interno della saga in tantissimi modi diversi mentre il secondo punto è quello dei viaggi perché questo ci permette di vedere come viene usata la magia in America l'abbiamo visto nel primo film o in Francia nel secondo film ora nel terzo film probabilmente andremo in Brasile e forse nel quinto addirittura in Italia io ci spero tantissimo piacerebbe tantissimo vedere il mondo magico italiano sarebbe davvero il coronamento di una vita sarebbe davvero una cosa molto molto bella e il terzo punto invece direi che è Nagini in molti hanno criticato la scelta di J.K. Rowling di inserire Nagini la stessa Nagini che volve mortare come animale di compagnia trasformarla in un maledictus secondo me invece è un punto di forza perché si vede che J.K. Rowling aveva già tutto questo in mente già dal nome stesso Nagini che deriva da queste divinità mezze donne, mezze serpenti se non sbaglio sono delle divinità indiane, induiste non ricordo esattamente da dove provengono però già il nome stesso nascondeva un indizio quindi è un segno inequivocabile che questa cosa era già nella mente di J.K. Rowling e sarebbe molto interessante vedere come Nagini alla fine andrà a finire con Voldemort come diventerà l'animale di compagnia di Voldemort addirittura dicono che possa essere la madre di Voldemort quindi non ci resta che aspettare e capirne di più come settima e ultima domanda invece voglio chiederti tranquillamente quanti Horcrux creeresti e soprattutto quali oggetti useresti se tu potessi farlo mi raccomando voglio qualcosa di davvero curioso conoscendomi direi che non farei mai degli Horcrux ma prendendo per buono che invece li farei la prima cosa che mi viene in mente magari sarebbero dei libri che però pensandoci non è che siano così resistenti e così duraturi quindi magari morirei nel giro di 15 giorni forse è meglio di no quindi l'altra cosa che mi viene invece in mente pensando a qualcosa di resistente sono i diamanti io probabilmente realizzerei 4-5 diamanti non di più e li metterei in altrettanti gioielli da regalare a 4-5 persone molto importanti nella mia vita che sono sicuro custodirebbero con molta cura e gelosia nelle loro case, nella loro vita e che non sarebbe praticamente impossibile il diamante è una delle è la pietra più dura esistente in natura quindi probabilmente riuscirei a vivere in eterno la faccia di Voldemort con questa risposta ragazzi siamo giunti alla fine io ringrazio tantissimo Matteo per questa collaborazione gli auguro un grandissimo in bocca al lupo per il suo canale sicuramente ci saranno altre collaborazioni in avanti perché mi trovo davvero bene a collaborare con lui e ragazzi naturalmente vi invito ad andare sul suo canale Wizard Always per andare a spulciare i suoi contenuti che sono davvero molto molto interessanti e ben fatti detto questo io vi do appuntamento a prestissimo con un nuovo video unboxing potteriano ho comprato una cosa davvero molto interessante che so vi renderà felici ma di questo ne parleremo più avanti non mi resta che chiedervi di lasciare un mi piace commentare, iscrivervi al canale ragazzi seguitemi su Instagram Antonio.seria e adesso chiudo il becco e vi do appuntamento alla prossima ciao ciao